Ciao ragazzi miei, più di tre settimane, quasi un mesetto che non carico un cavolo qui sul canale, mi siete mancati tantissimo, volevo sapere voi come stavate, del resto gli anche qui a Ustica, allo stesso posto dell'anno scorso, anche quest'anno sono partito per fare l'animatore nei villaggi turistici come ogni anno ormai. Bene, mi siete mancati particolarmente, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti come stavate, sono qui quest'oggi con questo video perché vi ho voluto portare la parodia, scusate, il backstage della parodia di stasera tu verrai con me, parodia che ormai praticamente ha raggiunto più di 50.000 visualizzazioni, quindi volevo ringraziare tantissimo di questo, e niente ragazzi, buona visione, buona visione, gli anche vi mando un grosso bacio, ciao! Muoviti! La frangetta non te la toccare Ma minna minna No, per essere serio Guardarti il vistiare E' uno spettacolo Da paisa, da suke Giuro in un attimo Il tuo movimento Spezza il fiato Mi stinnicchiati di nuovo Guardami Slingua Ma finita Ma finita Ah Eh, va male Va male la giusta Tuo odore di calze Mi fa passare le notti insonne Mi cazzicco è un aliena Sei fantastica Sei fantastica Vinci Grazie Non mi chiamo Vinci Mi chiamo Vicky Ah Vicky Hai voglia di? Minchia Ah 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 E andiamo a fare colazione Io voglio le colazione In una borsa Sei un polco sei Basta Devi smettere Non mi aspetti Secondo tutti gli altri Non lo devi smettere Facciare la sceandina E' questa Non sto No io la faccio Sciuola Un cazzo Quello Qulo Questa Non cosa Mi asciano sei fantastica E' timm Jaschi E' t painting Lo Balla guardando Sì, abbiamo un puro, abbiamo un senso, che è gay Prenditi il panino che tu vuoi Prenditi il panino che tu vuoi Prenditi il panino che tu vuoi